Rigenerare la politica partendo dai territori e mettendo al centro il merito, le idee e le competenze delle nuove generazioni che rappresentano l'unico motore possibile di un percorso destinato a costruire un nuovo futuro per l'Italia e l'Europa. E' uno degli obiettivi che si pone Rigenerazione Italia, un movimento generazionale di Under 35 che si è costituito anche ad Andria con l'apertura, sabato pomeriggio, di un agora, un luogo di incontro informale con l'intento di promuovere la partecipazione dei più giovani alla vita politica attiva. Sempre più spesso oggi i giovani sono il tema di una propaganda elettorale, sempre molto di più si parla dei giovani ma non siamo noi a portare avanti quelle che sono le nostre istanze. Rigenerazione Italia è nata come movimento a marzo, abbiamo creato un mega e organizzato un evento a Roma, all'Angelicum, dove hanno partecipato oltre mille ragazzi da tutta Italia, stiamo creando quella che è una manifesto ed una piattaforma valoriale e il nostro obiettivo è quello appunto di portare la nostra generazione in un percorso politico volto a rinnovare quello che è l'aspetto del centro-sinistra italiano oggi. Al centro del dibattito la costruzione di una visione futura per aggregare la comunità locale sui principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza per promuovere un nuovo percorso politico locale. La nostra generazione è una generazione preparata, che comunque in questi anni ha lavorato, si è impegnata, ha studiato. L'obiettivo è creare un percorso dalla città, quindi dalle comunità locali, per arrivare poi a una politica nazionale sempre più europea. Rigenerazione Italia è un movimento che punta al rinnovamento perché, come recita lo slogan, è tempo di muoversi, ha spiegato il consigliere regionale Sabino Zinni. Credo che sia quanto mai necessario per questo nostro paese una rigenerazione della politica perché oggi sulla Gazzetta c'era un articolo del poeta Davide Rondoni il quale diceva che i giovani ormai gli unici contatti che hanno con gli adulti sono nella scuola e nell'università. Per il resto è come se ci fosse una barriera tra generazioni di giovani e generazioni di adulti e c'è un'incomunicabilità assoluta. Un paese così non va da nessuna parte. I paesi che funzionano sono i paesi dove le generazioni collaborano tra di loro, pur nella distinzione, e dove c'è a un certo punto una staffetta dove la generazione adulta lascia lo spazio ai giovani.